La Turris è la ricerca del riscatto dopo aver perso l'imbattibilità record in trasferta che durava da oltre 570 giorni nella sconfitta contro il Catanzaro. La squadra di Fabiano insegue inoltre un successo all'Amerigo Liguri che manca addirittura dal 7 ottobre, era appena la terza giornata ed Icoralini vinse per 2-1 contro la Viterbese. Ci sono dunque le giuste motivazioni per provare l'assalto alla vittoria tra le Muramiche nel match di programma domenica alle 17.30 contro il Teramo. La compagine abruzzese raduce da due pareggi di fila contro Vibonese e Virtus Francavilla e dalla sconfitta esterna per 3-0 in casa della capolista Ternana. Nonostante il digiuno dei tre punti da poco meno di un mese, il Teramo è al terzo posto in aggruppamento con 25 punti nelle 13 partite fino alle disputate, col merito di avere la seconda miglior difesa del Giro di C. Non un avversario semplice per la Turris che d'altro canto vuole confermarsi come la miglior sorpresa del girone e ritornare a macinare punti pesanti. Finalmente potrebbero rivedersi Persano ed Alessandro che nelle scorse settimane hanno patito alcune noie fisiche. Ottimismo anche sulle condizioni di Romano che dovrebbe recuperare in vista della sfida di domenica pomeriggio che sarà arbitrata dal direttore di gara Valerio Maranesi di Ciampino coagliuvato dagli assistenti Votta e Dell'Orco. Possibilità per gli uomini allenati da Franco Fabiano di darsi slancio in vista dell'ultimo Tour de Force prima della sosta natalizia che vedrà la squadra di Torre del Greco fronteggiare nei due impegni avvicinati la capolista in solitaria ternana e la cavese nuovamente in casa. Impegni che uniti alla partita contro il Teramo costituiscono un trittico complesso quanto importante per assimilare altri punti chiave per il discorso salvezza, da sempre obiettivo esplicitamente dichiarato da parte della società.